Torna a ribombare sotto i bastioni del castello Ducale l'eco dei colpi di arma da fuoco. Poco dopo le 21, a quanto si è appreso, nelle diecenze pare di un circolo privato. Due persone, Paolo Algeri e Francesco Coppola, sono state ferite con un fucile. L'autore si è dileguato nel dedalo delle stradine del centro storico di Corigliano, ma è stato individuato dai carabinieri, si chiama Natale Pirro, è di 47 anni ed è stato subito arrestato. Sul posto sono giunti i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato le attività d'indagine e raccolto le prime testimonianze sull'accaduto. Alla base dell'aguato ci sarebbe una lite scoppiata all'esterno di un circo ricreativo in piazza Compagna.